Buongiorno a tutti, benvenuti, un ringraziamento agli ospiti presenti e permettetemi di salutare in maniera particolare oltre a Daniele Ferre, oltre a Luca Guidotti, anche Mauro Lusetti che è il Presidente della nostra Lega Nazionale delle Cooperative Mutue, e Mauro Lattini che è il Direttore Generale di Coppitalia, come ricordava Nicola, prendo i nostri lavori. Questo scatenerà tra me e Lusetti una competizione pericolosa, perché adesso Lusetti si spererà che ogni volta che nomino il suo nome scatta l'applauso. La loro partecipazione ai nostri lavori testimonia, oltre che un rapporto personale fatto di stima e di amicizia, anche l'attenzione dell'intero sistema cooperativo verso la peculiare esperienza della nostra cooperativa. L'esperienza, cioè di una grande impresa, di una grande cooperativa di consumatori, che ha saputo negli anni della crisi non solo perfezionare le proprie politiche di efficientamento, difendendo al contempo le quote di mercato presidiati e i livelli occupazionali, ma che ha avuto anche la forza e il coraggio di operare una profonda riorganizzazione dei processi decisionali e gestionali, coerente alle esigenze poste dall'ambizioso piano strategico che il nostro Consiglio di Amministrazione ha appena riapprovato nel mese di giugno, che è volto a definire il ruolo e le politiche che vogliamo agire nel mercato e nella società nei prossimi anni. La coerenza e la determinazione con la quale abbiamo applicato le politiche del piano, a partire da quelle relative al posizionamento competitivo, che hanno comportato importanti investimenti, sono ben oltre 18 milioni che abbiamo complessivamente investito nel riposizionamento competitivo della cooperativa, tale politiche, dicevo, seppur messe a dura prova da un contesto socio-economico che sul versante della stabilità e della certezza delle iniziative volte alla ripresa economica ha sostanzialmente tradito le attese, sono un segnale non di caparbia determinazione, ma di lucida e capace azione svolta da un gruppo dirigente determinatosi proprio nella costruzione del piano strategico e nella sua realizzazione. Abbiamo agito in un contesto non semplice, che ha visto un aumento considerevole della presenza di competitori fisici e virtuali, da S. Lunga a Carrefour, da Mercato ad Amazon. In un mercato in profonda trasformazione per qualità e quantità dei consumi, è all'interno di uno scenario economico che sicuramente ha compresso la capacità di spesa delle famiglie piemontesi e in un quadro di completa ridefinizione del sistema COP, a partire da Copitalia, che non abbiamo completamente condiviso e rispetto alla quale abbiamo espresso dubbi e obiezioni. Sono dunque anche anni non facili per la nostra regione, per il sistema paese e per la cooperazione tutta a partire da quella di consumo. Nel corso del 2016, ma anche più recentemente, abbiamo assistito al tentativo di determinare da parte di politici, pseudo giornalisti e opinionisti non sempre disinteressati, elementi di frattura fra la cooperazione, l'impresa in forma cooperativa, i propri soci e l'opinione pubblica. L'obiettivo è isolarci politicamente, colpire gli strumenti, quale il prestito sociale, che grande ruolo hanno avuto nel consentire la nascita di imprese cooperative fortemente patrimonializzate, determinare una rottura del clima di fiducia che soci hanno nei confronti della propria cooperativa. Si è preso a prestito un fenomeno drammaticamente reale e devastante, il fallimento di alcune imprese cooperative, in comparti nei quali, quale quello delle costruzioni, anche le imprese di capitale hanno pagato un duro tributo alla crisi, per cercare di colpire la cooperazione nel suo insieme, determinando spinte allarmistiche, all'interno delle quali notizie vere e determinazioni false venivano sapientemente utilizzate in un'azione volta a mettere in discussione l'intero sistema cooperativo. Ora, probabilmente una riflessione sul come siamo percepiti e sul valore e la lettura che il mondo esterno dà del nostro definirci sistema andrà sicuramente fatta, ma non è questa la sede per entrare in un dibattito che si deve sviluppare innanzitutto in sede di Lega Coop, se non addirittura dell'ACI. Quello che vale la pena di sottolineare è che la teoria che si è cercato di affermare a fronte, ripeto, anche di problemi reali che peraltro nessuno ha cercato di negare nella loro drammaticità, la teoria che si vuole affermare, dicevo, in questo ambito come nel dibattito politico è quella qualunquistica del «son tutti uguali», confondendo quindi il vero e il falso, chi ha subito danni e chi li ha procurati, chi rovina la reputazione di un sistema e chi la tutela. Occorre dunque avere l'orgoglio per dire con forza che no, non siamo tutti uguali, ristabilire la verità, combattere la falsa cooperazione e i cooperatori che delinquono, come peraltro è stato fatto con rigore e determinazione, ammettere le debolezze di un sistema che in alcuni ambiti è stato trovolto dalla crisi, ma anche valorizzare la forza positiva che è ancora in campo, tutelando con maggior forza e coraggio le cooperative come Nova Coop, che traggono ogni giorno dal rapporto di fiducia che hanno instaurato con i soci e con i consumatori, la forza e gli stimoli per proseguire nella realizzazione dell'ambizioso progetto di riuscire a essere una grande e efficiente impresa e al contempo una democratica e partecipata cooperativa. La sfida è dunque più generale e più alta e occorre, raffermando la piena dignità della presenza nel mercato dell'impresa in forma cooperativa, operare al meglio per tutelare quegli strumenti, come il prestito sociale, che ne hanno consentito nel tempo la crescita e il rafforzamento. So che Lega Coop è fortemente impegnata su questo versante e voglio ringraziare a nome vostro l'amico Lusetti per l'impegno che in prima persona ha messo per contrastare questi fenomeni, tutelare la dignità del sistema cooperativo tutto e difendere quegli strumenti che ne hanno resa possibile la crescita. La costruzione dell'Alleanza Cooperativa può rappresentare un elemento di valore aggiunto in questo contesto, ma funzionerà solo se in tutte le centrali che concorrono a questa esperienza scatterà lo stesso sentimento di orgoglio e la stessa voglia di realizzare questo importante processo non solo politicamente ma anche organizzativamente, determinazione che per ora, almeno a livello piemontese, abbiamo visto più marcati in Lega Coop che nelle altre centrali. Peraltro, nonostante gli elementi di criticità che ho sinteticamente rappresentato, lo scenario assieme agli stessi ci consegna un indubbio e rinnovato orizzonte all'interno della quale Coop può legittimamente ambire a un ruolo da protagonista. Cresce soprattutto fra i giovani la sensibilità a valori che sono nel nostro DNA. La crescente attenzione da parte dei media e dei consumatori verso le buone prassi nel mondo della produzione e dell'alimentazione ci consegnano un ruolo coerente alle nostre azioni quotidiane, dalla campagna relativa all'olio di palma a quella più recente sul benessere animale. E in tal senso il nostro prodotto a marchio può davvero essere l'alfiere del ruolo distintivo che vogliamo giocare nell'offerta e nel servizio al consumatore. La voglia di concretezza e di partecipazione che si manifesta in molti ambiti del volontariato ben si coniuga con la nostra cultura del fare, che trova nella quotidiana azione dei nostri soci la rappresentazione più puntuale ed efficace. Siamo dunque in un momento importante per il sistema Coop e per la nostra cooperativa. Ecco allora il motivo di soddisfazione che abbiamo nel rappresentare il nostro bilancio, che come vedremo è testimonianza della capacità ormai consolidata, di proseguire nel percorso volto al rafforzamento patrimoniale della cooperativa in un quadro di politiche di bilancio oculate e di investimenti rilevanti a favore dei soci e dei consumatori. Concludiamo oggi un ciclo lungo di assemblee separate che ha consultivato un dato di rilevante crescita della partecipazione. Ai nostri lavori infatti hanno partecipato direttamente al netto delle deleghe 10.388 soci con un incremento della partecipazione rispetto all'anno precedente del 6,1%. A tale dato si è aggiunto quello relativo alla qualificata e diffusa presenza ai nostri lavori di rappresentanti del mondo dell'associazionismo, del volontariato e delle istituzioni che hanno testimoniato come la nostra presenza e il nostro sostegno alle molte attività da loro promosse e da noi o con noi condivise nei piccoli comuni come nelle grandi città rappresenti davvero un bene prezioso per la comunità che ci ospita. Il nostro bilancio di sostenibilità descrive ampiamente il ruolo prezioso che svolgiamo all'interno della società nell'educare al consumo consapevole, nel mantenere e costruire reti di solidarietà, processi di diffusione della cultura della legalità, integrazione, rispetto e accettazione delle diversità. È evidente che siamo all'interno di questo percorso consapevoli dei limiti della nostra azione e non vogliamo tornare a una logica di concezione del ruolo della cooperativa, ma fatemi dire della cooperazione, di carattere generalista. Rifugiamo e consideriamo sbagliate qualsiasi velletà di rappresentare i cittadini, consumatori, cooperatori a 360 gradi, cioè accogliendoli e rappresentandoli oltre le naturali ragioni derivanti dal rapporto mutualistico. Il nostro primo dovere è soddisfare lo scambio mutualistico nei confronti dei nostri soci e permettetemi mantenere i livelli dell'offerta occupazionale che offriamo ai nostri lavoratori. Dunque il nostro compito principale è offrire cibi buoni, sicuri, a prezzi convenienti e considerare i lavoratori una risorsa preziosa nei confronti dei quali occorre trovare un equilibrio maggiore fra quello che chiediamo e ciò che diamo in cambio. In tal senso mi hanno dato conto nelle nostre assemblee delle misure contenute nel nostro piano di welfare aziendale, costruito grazie a una interazione positiva con i lavoratori stessi e che a loro rivolge misure importanti e apprezzate e in questo contesto abbiamo maturato la determinazione a dire di no alle aperture notturne dei nostri negozi, tendenza che si sta fermando purtroppo in molte catene della concorrenza. Ma al netto di questi due aspetti, scambio mutualistico e qualità dell'offerta occupazionale, non possiamo estranearci da un mondo che al di fuori dei nostri negozi e che in questi difficili anni di crisi economica ha scoperto nuove povertà, antiche paure e pericolosi egoismi. È dunque un bene prezioso l'opera costante e competente dei nostri soci che con la loro azione continua all'interno dei punti di vendita consente a Novacop di evidenziarsi per i tratti distintivi che gli derivano dall'essere una cooperativa. Grazie a questo lavoro la cooperativa aumenta la propria capacità attrattiva, migliora la penetrazione commerciale, estende con solida rapporti con le istituzioni, con il mondo del volontariato e dell'associazionismo. Quello del protagonismo della proprietà nella determinazione delle scelte della cooperativa e del suo protagonismo sociale è indubbiamente un terreno sul quale molto abbiamo fatto e ancora molto dobbiamo fare. All'azione che quotidianamente svolgiamo occorre sempre più e sempre meglio affiancare una capacità di innovazione delle nostre proposte per consentire a nuove leve, nuove anche sotto il profilo generazionale di avvicinarsi alla cooperativa, conoscere la mission e decidere di utilizzarla quale strumento per qualificare la propria azione nella società. L'esperienza che stiamo realizzando con il progetto Copacademy è di straordinaria importanza e va ulteriormente rafforzata perché ci consente di contattare decine e decine di giovani che con Novacop, attraverso Novacop sviluppano idee, progetti e iniziative. È uno scambio importante, paritario, che ci offre la possibilità di posizionare correttamente la conoscenza sulla cooperativa in un contesto in cui il contagio digitale e il passaparola possono produrre positivi effetti a contrasto delle distorsive immagini che spesso della cooperativa si rappresentano. Il progetto Copacademy ha vinto un premio internazionale, che ritireremo martedì prossimo a Milano, come uno dei 30 progetti del mondo più innovativi sul versante dell'Orizzontal Retail. Per questo importante riconoscimento va un particolare ringraziamento ai colleghi dell'area sociale che hanno saputo, con la loro iniziativa, costruire le ragioni di questo successo. Così come è importante rivolgere un altro ringraziamento a tutte le soci e a tutti i soci, perché grazie alla loro azione Novacop ha saputo mantenere un saldo legame con le proprie radici, che in particolare in questa fase mostrano una straordinaria modernità. Dicevo all'inizio che le nostre assemblee, che hanno provato quasi in maniera unanime i punti all'ordine del giorno, si sono soffermate, grazie agli interventi di soci, sui tratti principali della nostra azione. Sono state fatte domande, considerazioni, richieste di chiarimento, con particolare riferimento ai temi che riguardano il prestito sociale e le garanzie patrimoniali a garanzia dello stesso. Fortemente stimolate queste domande dall'ennesimo articolo, in realtà uscito su una testata minore, ma ampiamente rilanciato sui social, che ha evidenziato dubbi sulle garanzie che i soci prestatori delle cooperative avrebbero rispetto alle cooperative a cui affidano i loro risparmi. Sul versante delle politiche commerciali ci pare di poter dire che i soci hanno mostrato apprezzamento per il posizionamento competitivo della cooperativa, per il secondo anno consecutivo l'impresa della grande distribuzione più conveniente in Piemonte, e in generale hanno apprezzato la coerenza dell'applicazione del principio di precauzione adattata nei confronti della presenza dell'olio di palma nei nostri prodotti. In particolare gli interventi hanno fortemente apprezzato i prodotti a marchio, anche se con gradimento differenziato sulla nuova veste degli stessi, con richieste di avere un assortimento degli stessi più profondo, più ampio, in particolare con l'aumento di prodotti rivolti a chi soffre di intolleranze e attenti alle nuove culture e tendenze alimentari. Suggerimenti sono venuto circa le modalità di esposizione dei prodotti, in particolare nell'area ortofrutta, e critiche sono state avanzate sul nuovo sistema di raccolta punti del collezionamento, di cui si lamenta la complessità eccessiva nella fruizione dei punti rispetto alle edizioni precedenti. Si è parlato delle nuove politiche di servizio promosse dalla cooperativa, con un apprezzamento per la nostra nuova società, Nuova EG, che vende gas ed energia, nata all'interno di un progetto della cooperazione di consumo piemontese, per i nostri distributori a marchio Enercop e più in generale sono state avanzate richieste di chiarimento sulle politiche di sviluppo e di ristrutturazione della rete commerciale. Forte apprezzamento inoltre è stato manifestato per le nostre attività nell'ambito delle iniziative sociali, con particolare riferimento ai volumi raggiunti dall'iniziativa Buonfine e alle accompagne volte al sostegno della scuola pubblica. Sono state dunque un momento per noi utile a meglio comprendere, al di là di ciò che a volte ci accontentiamo di intuire, le reali opinioni dei nostri soci che hanno manifestato un generale convinto apprezzamento per i risultati della cooperativa e del servizio che a loro viene rivolto dai nostri dipendenti. Questo consente oggi di utilizzare i nostri lavori non tanto per una disamina puntuale dei dati di bilancio, che pure vedremo nelle loro principali evidenze, quanto per fare qualche riflessione rapida, di carattere generale, sulla situazione che stiamo vivendo e sullo stato di salute della cooperativa del sistema COP. Nel 2016 l'economia globale è cresciuta del 3,1%, un ritmo inferiore rispetto alle attese e l'espansione nei paesi emergenti e in via di sviluppo è stata contenuta. Gli Stati Uniti e il Regno Unito, pur mostrando una solida dinamica di fondo, hanno fornito alla crescita mondiale un contributo modesto, solo in parte compensato dall'espansione del Giappone e dell'area euro. L'inflazione globale è leggermente risalita, grazie al recupero dei prezzi dei beni energetici, mentre le condizioni finanziarie sono nel complesso migliorate, ma la riduzione della volatilità e della instabilità dei mercati si è accompagnata a un forte aumento dell'incertezza sulle politiche economiche. Nell'area euro si è consolidata la ripresa dell'attività economica, sostenuta dall'accelerazione degli investimenti e dei consumi, ma frenata dall'interscambio con l'estero. Nel 2016 il PIL è cresciuto dell'1,8% e la ripresa è perseguita, rafforzandosi nel primo trimestre del 2017. L'inflazione al consumo è stata quasi nulla nella media del 2016. Nella seconda parte dell'anno è gradualmente salita, superando di poco l'1%, in dicembre è toccando l'1,7% nel primo trimestre. L'aumento ha riflesso soprattutto alla ripresa delle quotazioni del pretorio e l'inflazione al netto dei prodotti alimentari ed energetici è invece rimasta complessivamente bassa, poco sotto l'1%. Nel 2016 la crescita dell'economia italiana è proseguita, 0,9%, sostenuta soprattutto dal forte impulso della politica monetaria, dalla politica di bilancio moderatamente espansiva e da quotazioni petrolifere ancora contenute. Al netto degli arei di dati evidenziati dagli economisti, dagli istituti statistici relativi all'anno 2016, appare evidente come il contesto macroeconomico e politico ci evidenzi in maniera drammatica la difficoltà del nostro Paese di cogliere la ripresa che pur si manifesta a livello europeo con una certa consistenza. L'Italia mantiene il tristo e primato della peggior crescita del PIL, che come abbiamo visto cresce della metà rispetto alla media europea, e pare non essere politicamente in grado di promuovere politiche reali e non puramente evocate, capaci di ridurre il debito e volte a stimolare consumi e crescita. La stessa ripresa dei dati relativi all'occupazione è fortemente contraddittoria al suo interno, con una forte precarizzazione dei percorsi occupazionali, un abbassamento di fatto dei livelli retributivi e una frattura evidente fra lavori ad alta e bassa specializzazione. Stiamo assistendo, cioè, alla crescita di quelli che Romano Prodi, nel suo ultimo libro intervista, definisce i lavoratori poveri. Certo, viviamo anni difficili in un contesto molto complicato. Il nostro tempo è scosso da molte inquietudini, violenze e conflitti sociali. Ma occorre essere chiari. Non saremo in grado di contrastare le barbarie che devastano il nostro tempo, se al fianco delle giuste politiche solidaristiche e inclusive e in una ricerca di un nuovo equilibrio fra diritti e doveri, non cominceremo un processo di giusta valorizzazione e difesa di quello che in questi anni abbiamo costruito nelle economie più avanzate, che hanno garantito, in processi certo non privi di contraddizioni, crescita, giustizia sociale e democrazia. Il rifiuto di valori comuni, che porta a mettere in discussione l'appartenenza alla comunità economica europea, è figlia di un generale quanto diffuso e pericoloso sentimento di rifiuto della modernità e del progresso. Questo rifiuto a tutti i livelli inquina il dibattito politico e porta al rifiuto paura del progresso stesso, o a dibattiti quasi lunari, dallo iussoli a quello sui vaccini. Ma davvero si può in Italia morire di morbillo a sei anni, come è successo a Monza ieri? Sotto la spinta di derive e sentimenti populisti, che come stiamo vedendo in questi ultimi giorni, e io che sono di Torino lo vedo direttamente, sentimenti populisti che, quando si misurano con le complessità derivanti dall'onere del governo, non sempre riescono a tradursi in scelte condivisibili o, peggio, comprensibili. La crescita di questa tendenza, dopo la Brexit, per fortuna ridimensionata dalle ultime tornate elettorali olandesi e francesi, sembrava inarrestabile, anche alla luce della vittoria in America di Donald Trump, e ci segnalava e segnala comunque la evidente perdita di credibilità delle classi dirigenti e dello Stato sociale, che ha mostrato limiti enormi nell'arginare le contraddizioni insite nel processo di globalizzazione. Il necessario equilibrio sociale volto a determinare maggiore equità e protezione per le fasce sociali maggiormente colpite dalla crisi di questi anni, appare però troppo spesso solo evocato e mai perseguito con misure concrete e rapidamente attivabili. Questo clima di certezza politica e economica, che trasversalmente ha attraversato tutta l'Europa, in Italia ha determinato debolezza e contraddizioni nell'azione di governo, acuitesi con l'esito del referendum dello scorso anno, che ha determinato un brusco stop al percorso di riforme proposte dal governo, giusto o sbagliato che fossero, che però non sono state sostituite con nuove proposte e un nuovo progetto di riforma dello Stato. Il combinato disposto di questa situazione ha determinato, da un lato, la crescita dell'incertezza che grava sul governo in carica e dall'altro, visto che si va verso un ritorno a un'ispirazione proporzionale, legittimi dubbi sulla governabilità del Paese nei prossimi anni. Dunque, nonostante la reiterazione di una serie di provvedimenti, la conferma del bonus e l'alleggimento della pressione pescale sulle famiglie e la conferma delle misure a favore delle imprese, quest'ultima è ancora troppo debole in verità, non è stato sufficiente a determinare una netta e diffusa ripresa dei consumi che hanno sì segnalato una ripresa, ma scarsa, nel comparto alimentare e per lo più hanno accentuato una politica di risparmio, quasi forzoso, volto a costituire un patrimonio di sicurezza individuale a fronte di un contesto che consegna ancora molte incertezze. E' in questo quadro dunque che assume un particolare rilievo il nostro risultato di bilancio, poiché, mentre evidenzia il grande investimento fatto a favore dei soci e dei consumatori tramite le politiche di prezzo, le promozioni e i servizi a loro dedicati, dall'altro segnala una politica prudente che vede un rilevante incremento dei fondi rischi della cooperativa e un altrettanto positivo rafforzamento patrimoniale della stessa. Novacop chiude un esercizio positivo con un utile, al netto delle imposte, di 10.971.000 euro, leggermente superiore a quello dello scorso anno. Un risultato determinato principalmente dalla componente finanziaria, che registra un consuntivo di oltre 31 milioni, dato che ha superato ampiamente le attesi di budget, e dalle partecipazioni strategiche, che contribuiscono con circa 20 milioni, derivanti in gran parte dalla plusvalenza generata dall'accessione delle quote di Italy. Da segnalare anche il positivo concorso che a questi risultati è stato dato dal dividendo derivante dalla nostra partecipazione nel gruppo Unipol, gruppo del quale, anche a seguito della nascita di Copp Alleanza 3.0, che raggruppa le tre cooperative emiliane in un unico soggetto e al processo di soperamento di Finsoe, Novacop si appresta a diventare il secondo azionista. Il risultato di tutte le gestioni ordinarie e straordinarie ci consegna un valore pari a 52 milioni, che scontato all'accantonamento svalutazione titoli, quasi 15 milioni, consente di accantonare ben 18 milioni, quasi 19, a fondo rischi e politiche di bilancio. La gestione commerciale ha chiuso sostanzialmente a pareggio, seppur con un modesto segno positivo, pur scontando i forti investimenti realizzati sul versante della convenienza e l'amarencata riduzione dei costi dovuta alla non avvenuta diminuzione degli investimenti promozionali. L'attività caratteristica consuntiva fra iper e super 994 milioni di vendite e paga una contrazione importante delle stesse in valore assoluto, sia rispetto all'anno precedente, meno 31 milioni, che al budget pur a parità di pezzi venduti. Complessivamente Novacop registra vendite totali fra rete tradizionale e rete carburanti pari a 1 miliardo e 35 milioni. Nel mancato raggiungimento dell'obiettivo di vendite hanno sicuramente pesato in primo luogo le scelte dei consumatori piemontesi, che in un contesto di lieve ripresa dei consumi hanno privilegiato i beni durevoli tecnologici all'alimentare, e in secondo ha contribuito anche la politica di abbassamento dei prezzi che ha comportato anche una diminuzione del valore medio dello scontrino. All'interno di un mercato che ha registrato un forte aumento della presenza di offerta aggiuntiva, negli ultimi due anni si sono aggiunti in Piemonte 70 mila metri quadrati ulteriori di area di vendita di nostri competitori, Novacop ha comunque consuntivato un importante obiettivo di crescita degli scontrini, che ci vede prima cooperativa del sistema Coop crescere 2016 su 2014, cioè i due anni in cui abbiamo applicato la politica di convenienza, del 2,43%, dato che viene confermato, ma in presenza di un rilevante aumento delle vendite, anche in questi primi mesi del 2017. Le difficoltà di marginalità riscontrate, con un abbattimento del margine lordo merci pari a quasi 25 milioni di euro, sono state in parte compensate da un'attenta politica volta all'efficientamento dei processi a punto vendita, dal contenimento dei costi, da quello di funzionamento al costo del lavoro, e da un significativo recupero di maggiori contributi da parte dei fornitori, realizzatosi tramite il nostro consorzio distrettuale e da Copitalia. Lo scorso esercizio si è inoltre registrato un mix di vendite, che in relazione alla scelta di posizionamento adottata dalla cooperativa, ha portato a una crescita di quota delle marche rispetto al prodotto a marchio, che nel corso dell'anno ha visto anche penalizzata la propria presenza scaffale in relazione alla scelta realizzata volta all'eliminazione dell'olio di palma. Tale scelta, a livello di sistema, ha comportato minori vendite nel periodo per circa 20 milioni di euro. È chiaro a tutti noi l'importanza che il prodotto a marchio svolge in termini di fidelizzazione dei soci e dei clienti. Il palma è un veicolo dei nostri lavori, dei nostri valori, è buono, etico e sicuro. Ed è altrettanto chiaro come, obiettivo questo, definito nel processo di ridefinizione delle linee guida del piano strategico, una recuperata capacità di aumento delle quote del prodotto a marchio venduto, sia indispensabile per fidelizzare sempre più i nostri soci e i clienti e a tonificare le politiche di bilancio della cooperativa, visto gli importanti contributi in termini di marginalità che lo stesso determina. Il nostro prodotto a marchio è dunque strategico per Novacop, lo dico a Maura, tanto è strategico che gli abbiamo dedicato al nostro negozio 4Food, dove oltre il 70% dell'assortimento è costituito dal prodotto, che è sito nel cuore di Torino. 4Food sottovalutato esempio di innovazione, di formato e di servizio. Dico questo perché negli esempi citati relativi all'innovazione nella recente assemblea di Copitalia si sono raccontate molte esperienze, alcune anche poco performanti, ma di 4Food non si è parlato. È evidente come, al di là dello sforzo e del giusto ruolo che le cooperative gli devono attribuire a scaffale, il prodotto a marchio deve essere capace di determinare quel giusto grado di innovazione, capace a soddisfare le nuove tendenze di consumo che spesso analizziamo ma non sempre traduciamo in corrette e più dinamiche politiche di offerta. Insomma, consultiviamo un buon bilancio in un contesto di sistema che presenta, per quanto concerne la gestione caratteristica, dati negativi in diverse cooperative e che ci ha visto recentemente intervenire, anche economicamente, insieme alle altre cooperative del sistema, a sostegno di Unicop Tirreno e del suo percorso di ristrutturazione aziendale. Proprio da questa sede, se ricordo bene era la prima assemblea di bilancio a cui avevamo invitato Mauro Lusetti, avevamo evidenziato i rischi che un mancato intervento di natura non genericamente solidaristica ma imprenditoriale del sistema su quella cooperativa avrebbe comportato per il marchio COP e la sua reputazione. Il tempo ha reso indispensabile e improcrastinabile quell'intervento e restiamo convinti che se si fossero intervenuti prima, forse avremmo evitato di dilapidare ulteriori risorse e il contributo richiesto alle cooperative sarebbe stato meno oneroso. Ma, una volta evidenziato questo aspetto, mi sembra importante comunque sottolineare lo spirito positivo con cui, pur con accenni diversi, tutti abbiano in sede di associazione nazionale condiviso l'intervento, adottando le deliberazioni necessarie e mettendo in sicurezza quell'importante realtà cooperativa e il prestito dei soci. Sicuramente fattore determinante è stata la spinta che questo processo ha dato COP Alleanza 3.0, la cui nascita ha avuto aspetti rilevanti sul sistema e sul consorzio nazionale in particolare. Diamo conto, nella relazione di bilancio, al percorso innovativo che in Copitalia si è avviato e che ha comportato per tutte le cooperative e per il nostro consorzio distrettuale la necessità di ridefinire strategie e strumenti, politiche e utilizzo delle risorse. Noi, insieme alle altre due cooperative del distretto, non abbiamo condiviso appieno questa nuova stagione di Copitalia. In qualche misura, costretta a misurarsi con un soggetto, COP Alleanza, che per dimensione e numero di punti di vendita, fatturato, dipendenti e società collegate, è oggettivamente divenuta gran parte del mondo COP e che quindi concentra su di sé un ruolo determinante per lo sviluppo del sistema, ma anche i possibili fattori scatenanti di crisi dello stesso. Non abbiamo condiviso questa fase perché abbiamo ritenuto che la ridefinizione del perimetro delle attività di Copitalia e il relativo decentramento verso le cooperative o consorzi di parte delle attività fosse più congeniale all'esigenza della grande cooperativa che non della maggioranza delle cooperative e che il rischio di depontenziamento del Consorzio nazionale nel confronto del mondo dei fornitori e dell'industria fosse un rischio reale. Nova COP, che è già stata nel recente passato penalizzata dalle nuove modalità di distribuzione dei contributi fornitori relativi al piano promozionale ipermercati, non più a prestazione ma a valore di fatturato, ha chiesto con forza che questo nuovo percorso avesse come base almeno i volumi di contributi garantiti alle cooperative prima della revisione del perimetro e che ci fosse a riguardo un puntuale momento di verifica che faremo a luglio nel prossimo Consiglio dell'amministrazione di Copitalia per comprendere se questa nuova fase sta producendo i risultati attesi o se necessita di aggiustamenti, correzioni e ricalibrature. Si tratta in sostanza di evitare la dispersione delle risorse nel passaggio delle responsabilità da Copitalia al Consorzio, ma anche di verificare la sostenibilità economica delle politiche commerciali che le cooperative con il Consorzio metteranno in pratica. È necessario dunque tramite un confronto realmente trasparente fra tutte le strutture di sistema che si interfacciano e gestiscono il rapporto con i fornitori, condividere la visibilità dei listini per consentire la definizione di politiche di posizionamento che, grazie all'acquisizione del prezzo netto del prodotto, consentano la non dispersione di ricchezza scaffale, ma al contrario la realizzazione di consapevole politiche di prezzo sia in continuo che in promozionale. Certo è che sia aperta a seguito di quella scelta una nuova fase anche nel nostro distretto imprenditoriale, con una rinnovata centralità del Consorzio distrettuale che ha assunto, in relazione all'attività che Copitalia ha decentrato, una rilevante importanza strategica e imprenditoriale. Credo che nei fatti sia da considerarsi superata la fase in cui ci si interrogava se il Consorzio fosse o meno struttura di servizio e quale livello di integrazione e confronto fosse possibile realizzare all'interno dello stesso fra le tre cooperative del distretto. Erano domande queste che ci ponemmo proprio qui l'anno scorso, in relazione alla volontà che manifestammo allora di riflettere complessivamente sul ruolo del Consorzio, sul protagonismo al suo interno delle cooperative e sui risultati raggiunti. Queste domande partivano da una crescente volontà di procedere speditamente a un efficientamento delle strategie commerciali in relazione alle tensioni sulla marginalità che le nuove politiche di posizionamento indicate da Copitalia e da noi applicate con rigore e con coerenza ci consegnavano. Il nuovo perimetro di attività definito per il Consorzio nazionale, che presenta ancora tratti da perfezionare, ha sostanzialmente imposto una rivisitazione del ruolo del nostro Consorzio distrettuale, al quale sono state affidate politiche promozionali rilevanti e dunque nuovi e importanti obiettivi di natura economica. Partendo da questa considerazione, come cooperativa, ci siamo adoperati fin da subito per rafforzare lo strumento consortile, contribuendo al suo potenziamento, anche determinando il processo di utilizzo in quella sede di competenze fino ad allora operanti in NovaCop. Tale processo che ci ha portato nei primi mesi del 2017 la nomina Presidente del Consorzio stesso del nostro Vice Presidente Nicolo, che era stata preceduta dall'assunzione dell'incarico del nostro collega Ghisoni del ruolo di responsabile del marketing strategico, si basa sulla volontà comunemente espressa dalle tre cooperative del distretto di rilanciare il confronto strategico, rafforzare l'integrazione delle politiche commerciali in sede consortile, verificare quali ulteriori livelli di integrazione operativa si possono utilmente determinare. Le tre cooperative sono dunque chiamate a operare uno sforzo importante per determinare, pur in presenza di necessità a volte diverse in relazioni ai diversi mercati che presidiano, il massimo dello sforzo di sintesi unitaria possibile per consentire al Consorzio stesso di produrre quei risultati che sono la ragione per cui è stato creato. Serve a riguardo capacità di confronto, volontà di delega, rispetto delle autonomie dei livelli decisionali, coerenza e rispetto delle scelte comunemente condivise. Ci pare di poter dire che pur all'interno di un quadro di confronto fra le cooperative non sempre semplice, il percorso di integrazione costruttiva dentro il Consorzio stia procedendo in maniera positiva e che la consapevolezza che le ragioni che ci uniscono sono più convincenti di quelle che ci spingono a dividerci aiuta a cercare la mediazione più opportune a tutti. In tal senso, naturalmente decisiva è la professionalità che alberga dentro il Consorzio, che a partire dall'amico Guidotti che presenta i nostri lavori e che ringrazio, sicuramente in questi anni difficili è stata decisiva per raggiungere gli obiettivi economici assegnati e oggi, se rafforzata dalle competenze delle cooperative maggiormente integrate nei processi di costruzione delle politiche commerciali, può davvero essere elemento decisivo per realizzare al meglio gli obiettivi che ci siamo dati nel distretto e nella cooperativa. Peraltro il far massa critica e costruire sinergie imprenditoriali, appare oggi l'unica strada per provare a disegnare un convincente e vincente futuro per la cooperazione di consumatori nel nostro distretto, ma anche in Italia. Ragionare di mercati, di Europa, di alleanze, di innovazione e sviluppo necessita però di una cornice all'interno della quale le cooperative possano sviluppare il confronto su questi temi, liberi da vincoli derivanti dalla gestione del quotidiano. Serve forse in tal senso chiedere alla nostra associazione nazionale, che svilupperà nel mese di dicembre l'assemblea di metà mandato, più coraggio nel far ragionare insieme e maggior determinazione nel costruire un trasparente modello, moderno sistema associativo. Per non annoiare Lusetti, che mi sente ripetere queste cose in tutte le sedi e anche quando ci troviamo in contesti meno formali, evito di elencare i limiti che a mio avviso ha il sistema della cooperazione di consumo, fra eccessiva articolazione e frammentazione delle competenze e la totale assenza di un progetto di rinnovamento generazionale. Appare però evidente che un sistema eccessivamente articolato difficilmente risulta efficiente e credo che anche alla luce di recenti episodi consegni la necessità di essere non solo semplificato ma anche maggiormente controllato e regolato. Portare Scuola Coppa all'interno dell'Associazione Nazionale e Ingress all'interno di Coppa Italia consentirebbe, oltre che una riduzione dei costi e una semplificazione strutturale, anche un più puntuale governo di quelle strutture, con una migliore definizione del perimetro di attività, degli obiettivi e delle responsabilità loro assegnate. Due anni fa, insieme a questo, propose anche la unificazione in Coppa Italia del consorzio non alimentare, cosa che è recentemente avvenuta. Confido che, anche se con lentezza, si riesca, anche per le altre strutture, a procedere nel senso che auspichiamo. Insomma, credo che un sistema più snello, semplificato, possa aiutarci davvero a procedere verso la rivisitazione strategica del ruolo che Coppa può avere nel mercato italiano nei prossimi anni. Non so se, come ha detto Pedroni mercoledì all'Assemblea di Coppa Italia, la Coppa non è interessata a comprare il Selunga. Sono convinto, però, che senza una condivisione strategica di alto livello, qualsiasi acquisizione di catenie, medio-grandi che siano, risulta in salita fin dall'inizio. Servono dunque capacità di analisi, idee, progetti e regole certe. La definizione di un orizzonte condiviso e l'adozione di un piano strategico è dunque ineludibile per il sistema Coppa a livello nazionale ed è stato per Nova Copp decisiva in questi anni. Al di là dei contenuti, il confronto strategico sui quattro obiettivi del piano che abbiamo adottato in cooperativa, essere competitive, essere radicati, essere produttivi e essere leader, ha consentito di far emergere a tutti i livelli una nuova leva di competenze e di energie che ha tonificato la cooperativa aiutandolo in un percorso di costante confronto sui mille volti dell'innovazione, intesa come leva decisiva da utilizzare nella ricerca delle risposte alle nuove domande che il mercato ogni giorno ci pone. Innovazione di modello di offerta, di formati, di servizio e di processi gestionali della cooperativa. Fior food, il drive, la realizzazione di un nuovo modello di superstore, ma ancora la scelta di fare una società nuova IG, la progettazione partecipata con la quale abbiamo realizzato la nostra sede di vercelli, la definizione del piano strategica con le sue politiche ambiziosi, il nuovo piano di sviluppo, il welfare aziendale, l'efficientamento dei processi produttivi decisionali, sono progetti che nascono tutti all'interno di Novacop e sono stati pensati e realizzati dalle donne e dagli uomini che lavorano in cooperativa. Credo che forse questo sia il risultato più prezioso che abbiamo costruito in questi anni di crisi. Un nuovo gruppo dirigente competente e affiatato, capace di progettare il futuro gestendo il presente, capace di darsi obiettivi sfidanti e di realizzare al contempo politiche di welfare aziendale. Credo che di questo spirito e di questa ascensione ci sia bisogno oggi come domani. Le prime evidenze del 2017, confortate dai dati di crescita economica più marcati rispetto allo scorso anno, ci dicono che stiamo aumentando le vendite sia a rete corrente che a rete omogenea, di circa 3 punti percentuali e contestualmente incrementiamo di oltre 2 punti percentuali anche il numero degli scontrini. Siamo credo primi come crescita in un panorama cooperativo che vede qualche segno positivo, ma anche situazioni di accentuata difficoltà. In un contesto nel quale tutto il sistema COP soffre sul versante della raccolta, perdendo prestito e prestatori, noi cresciamo, unica cooperativa, come numero di attivazione di nuovi libretti, pur registrando anche noi un saldo negativo fra versamenti e prelievi. Siamo solidi patrimonialmente. Abbiamo sviluppato nelle nostre politiche di bilancio prudenti accantonamenti, a salvaguardia del patrimonio intergenerazionale e stiamo migliorando progressivamente gli indici relativi all'equilibrio economico e finanziario della cooperativa. Siamo di fronte a un'importante stagione di sviluppo, non solo nel torinese, che ci porterà ad attivare direttamente o in forma indiretta investimenti per oltre 300 milioni. La crescita della partecipazione alle nostre assemblee ci dice di come sia possibile coinvolgere sempre di più i soci e raccontargli del come proviamo a essere distintivi nello svolgimento del nostro ruolo nel mercato e nella società. Cari soci e cari soci, la competizione sarà sempre più complicata e il mercato più affollato. E per essere vincenti non serve cercare suggestioni, pepite d'oro, che tonifichino i nostri bilanci, ma serve impegno quotidiano, fatica, voglia di progettare e passione per il proprio lavoro. Avanti allora, come dice lo slogan della nostra assemblea, trasparenti nelle nostre azioni e coerenti con i nostri valori. Novacop è per tutti noi un bene prezioso che noi tutti, insieme, vogliamo costudire, far crescere e trasmettere ancora più grande e solido a chi dopo di noi verrà. Grazie. Grazie. Grazie ad Ernesto per la relazione. Molto bella, anche breve. Apriamo adesso il dibattito. Io ho per adesso sei soci che hanno chiesto di parlare. Se ci sono altri soci che intendono intervenire, ci facciano avere alla presidenza il foglietto. Grazie.